Una membrana anti-covid nelle maniglie e in tutti i corrimano è l'innovazione arrivata nelle scuole dell'infanzia del comune di Castiglion Fiorentino, uno dei primi comuni ad adottare questa tecnologia. Si tratta sostanzialmente di una pellicola autosanificante, adesiva, protettiva, la quale è trattata con ioni d'argento che hanno una capacità antivirale e antibatterica. Quindi al contatto con la persona questa membrana si autosanifica e l'uso prolungato favorisce maggiormente questa autosanificazione. Fino al 99% della sanificazione avviene con il contatto. Viene venduta con una durata di tre anni, non necessita di particolari attenzioni per la pulizia perché addirittura nemmeno sarebbe necessario pulirla, però magari visto che c'è un uso continuo, se uno si vuole passare un po' di acqua, però non necessita di prodotti perché si autosanifica al suo interno. La socialità passa attraverso il gioco, passa attraverso anche la fisicità, passa attraverso il toccare, tante cose e per cui appunto questa attenzione che è stata dimostrata nei confronti della scuola dell'infanzia è un vanto per noi perché praticamente in questo modo i bambini, è vero, toccano tante superfici, però sono anche tutelati perché come ha detto l'assessore prima questa membrana riesce a sanificare, insomma non riesce a distruggere appunto tutti i microbi, tutte le cose che potrebbero essere nocive appunto per i bambini. Potranno beneficiare di questo progetto le nostre cinque scuole dell'infanzia per un totale di circa 310 alunni. Quanto è stato difficile adeguarsi alle normative anti-covid in una scuola materna? Noi abbiamo fatto un gioco, il gioco del coronavirus show. In pratica quando entravamo in classe, le maestre già sapevano i bambini che avevano una mascherina e tutti insieme facevamo un gioco di sanificare le mani col gel e noi adulti che siamo pensi come moschettieri abbiamo detto e difendavamo tutti questi bambini con queste maschere, un po' come gli eroi dei bambini. E poi da lì abbiamo iniziato a fare tutti questi giochetti sugli eroi che noi tuteliamo i nostri bambini, siamo i loro eroi, riusciamo a mandare via questo virus che nelle scuole non ci deve assolutamente avvenire. Quindi i bambini sono tranquilli, con tanta tranquillità. Questa membrana aiuta i supereroi a mantenere la sicurezza all'interno della scuola, è una membrana che è nei corrimano, nelle maniglie anche ci spiegava nel maniglio in antipanico, insomma in tutte le maniglie i corrimano che riguardano l'edificio. Sì, effettivamente questo è un grande aiuto, un grande supporto. Questo ci fa capire che le scuole italiane, in particolare la scuola di Castillo e Frentino, sono in sicurezza. Possiamo dire che siamo stati bravi, noi con la collaborazione del Comune e il dirigente, insomma è stato fatto un lavoro veramente bello e lo dimostra anche il fatto che poi alla fine la scuola è sempre rimasta aperta, quindi questo lo stacca a dimostrare. I bambini sono stati bravi perché hanno capito subito quali erano le regole, anche nella divisione del giardino esterno che è stato diviso in settori, quindi i bambini non potevano andare in tutto il giardino, ma dopo una settimana i bambini hanno capito che quello era il loro pezzettino di giardino e loro dovevano giocare lì. Hanno capito subito senza fare bizze, senza fare capricci, quindi veramente sono... i bambini sono eccezionali, forse qualche volta sono anche più bravi di noi, qualche volta sono loro che mi correggono, maestra ma devi igienizzare la mano, devi... insomma qualche volta ti correggono proprio anche loro, quindi insomma i bambini ormai hanno capito insomma qual è la situazione che stiamo vivendo ora.